Musica Rosario Cerva è il presidente del centro di economia digitale ed è, come dire, il centro di ricerca più avanzato in Italia per quanto riguarda l'analisi del mercato, delle competenze digitali ed ha alcuni dati esclusivi per noi. Quello che faremo vedere in questa presentazione sarà sostanzialmente il posizionamento della Campania e delle sue province rispetto al mondo delle competenze digitali. Abbiamo già detto che le competenze digitali sono il cuore, l'ha detto Marco Gai, sono il cuore della dinamica del mondo digitale e su questo noi ci siamo concentrati. Prima di fare questo passaggio, due sollecitazioni. La prima riguarda il mondo digitale. Il mondo digitale non è un punto di un'agenda politica. Il mondo digitale è un'agenda politica a sé stante. Cioè coinvolge tutto, coinvolge le imprese, coinvolge le società, coinvolge le istituzioni e se la politica non capisce che il digitale non è più un punto di un'agenda, di una sequenza di cose da fare ma che è un cambiamento radicale del modo di vivere delle persone nei prossimi anni rischiamo quello che io definisco il terzo populismo. Noi abbiamo avuto un populismo avuto dalla globalizzazione che è stata gestita in maniera un po' lasca da questo punto di vista. Un secondo populismo che nasce dalla gestione un po' lasca anche questa dell'immigrazione nell'ultimo periodo il rischio di avere un populismo che nasce dalla gestione lasca o non compresa delle innovazioni digitali di come la tecnologia cambia il futuro è un rischio che abbiamo da un punto di vista sociale. Il centro di economia digitale è un centro che nasce dall'interazione delle tre facoltà di economia delle tre università statali di Roma e quindi Sapienza, Tor Vergata e Roma 3 e ha come direzione scientifica i tre presidi delle facoltà. Questo è il board che costituisce il centro, io mi onoro di essere nel presidente e vediamo subito sostanzialmente cosa abbiamo preparato per questo incontro di oggi. Partendo da una definizione del World Economic Forum in cui si dice che la tecnologia è il maggior agente di cambiamento. Io ieri sera ero a un incontro di Google Italia che presentava la nuova tecnologia sull'intelligenza artificiale e molto della presentazione era legata al fatto che l'intelligenza artificiale era a supporto delle nuove imprese piccole, grandi, medie con molti casi presentati in quell'occasione in cui si diceva che il fattore umano resta il fattore che effettivamente fa cambiare il valore della tecnologia. Io vado in modo controintuitivo. Se ci ragioniamo in realtà più andiamo avanti più il business diventa tecnologia e più la tecnologia diventa business. Questa cosa va compresa perché noi puntiamo sempre in tutti i convegni e continuiamo a dire che il fattore umano è molto importante, è determinante e quant'altro. Però è molto determinante comprendere come la tecnologia sta cambiando anche il fattore umano. Vi faccio un esempio molto semplice per quanto riguarda la sanità. L'introduzione dei robot per gestire le persone. Nel 90% dei casi si dice che l'introduzione dei robot è un problema nella relazione con il paziente. Questo è vero, è vero nella nostra cultura. Per quanto riguarda il Giappone invece è esattamente il contrario. Perché il paziente preferisce tutelare la propria intimità e interagire con un computer. Allora comprendere queste dinamiche vuol dire comprendere il futuro che ci aspetta. Da questo punto di vista abbiamo avuto una focalizzazione rispetto alle competenze e sulle competenze abbiamo definito quello che definiamo uno spread delle competenze che può essere piccolo, grande o medio a seconda dei territori e a seconda delle funzioni. Quello che abbiamo realizzato è un digital policy tool, uno strumento che serve per la politica digitale. E cosa fa questo strumento? Questo strumento sostanzialmente nasce, semplificando molto, con due processi. Uno attraverso una procedura di text mining con sei keywords generiche sommate a 165 specifiche moltiplicate per 13.500 competenze, moltiplicate per 2.500 occupazioni che ci dà la possibilità di avere una mappatura delle competenze digitali. Questo nasce dalla fonte dati dell'ESCO della Commissione europea a cui abbiamo legato la mappatura delle competenze occupazionali realizzata dall'Istat con 600.000 interviste ogni anno. Dalla combinazione di queste due realtà nasce questo indicatore che applicato all'Europa ci dà questo quadro molto concreto di come sono le competenze sul digitale in Europa. Tutti noi conosciamo il DESI, se ne parla migliaia di volte, sappiamo che siamo venticinquesimi tendenzialmente rispetto a tutto il resto d'Europa e anche questo indicatore conferma questo andamento. Non solo, abbiamo proceduto a fare un indice di correlazione tra questo indicatore e il DESI per vedere se l'indicatore si spiecchiava con il DESI e l'indice di correlazione è dello 0,84 che è una correlazione altissima. Perché è importante questa correlazione? Perché il DESI non si applica alle regioni, riesce a confrontare solo esclusivamente le nazioni, non riesce a confrontare le regioni, ancor meno riesce a confrontare le province e per chi gestisce una regione è fondamentale avere conoscenza del proprio posizionamento ma soprattutto anche di come stanno andando le province. Allora, applicato alla nostra straordinaria nazione, siamo riusciti a fare un confronto tra i dati che erano nel 2011 e i dati che c'erano, che ci sono sostanzialmente al 31 dicembre del 2018. E cosa ne esce fuori? Ne esce fuori sostanzialmente che la buona notizia per la Campania è che è la regione più avanzata del Sud e che quindi in questo periodo è addirittura salita di due posizioni. Ma comunque il Sud resta in grandissimo ritardo da un punto di vista di competenze. Se vediamo le province, qui abbiamo l'elenco delle province che sono maggiormente avanzate da un punto di vista di competenze digitali, che non so se sia un caso o se sia preparazione di Masiero, sono esattamente quelle che ha elencato Masiero all'inizio. Vediamo come sta messa la Campania. Allora, la Campania è sostanzialmente cresciuta in maniera omogenea dal 2011 al 2018. C'è una particolarità della Campania che è Napoli. Napoli ha addirittura dimezzato in questi anni la lontananza che aveva da Milano, passando dalla 55esima posizione alla 24esima. Questo ovviamente è dato dalle iniziative che sono state fatte in questi anni, di cui questa di oggi e la location sono sicuramente dei risultati. Resta molto strada da fare, perché abbiamo un territorio come la Caserta, che è ancora molto indietro, Benevento, Avellino e Salerno si sono un po' omogenizzate. Però teniamo conto di una cosa. Noi siamo la 25esima nazione, da un punto di vista digitale, dell'Europa. In un contesto mondiale, dove il confronto sul digitale è fatto tra la Cina e gli Stati Uniti. Quindi noi siamo molto indietro da questo punto di vista. Molto indietro. E c'è molto da lavorare, quindi in bocca al lupo alla dottoressa Fascione. Grazie. Grazie.